Innanzitutto fidarsi del proprio intuito, occhio, perché se non abbiamo sviluppato un discernimento decente è attraverso l'esperienza, lo studio e l'esperienza, il nostro intuito può tradirci perché può farci prendere delle enormi cantonate, perché il nostro intuito comunque è influenzato dal nostro retroterra culturale, dalle nostre esperienze di vita, da quella che è la nostra evoluzione, anche quindi dalla nostra forma mentis, quindi seguire l'intuito diciamo occhio. Diciamo che per sapere se siamo sulla giusta strada c'è un metodo infallibile, i frutti, vedere i frutti, se la tua vita ti dimostra con i dati oggettivi, che tu fai una breve analisi rapida della tua vita, come sta andando la tua vita, che relazioni hai, sei felice del lavoro che fai, sei felice, ecco, e la tua vita produce del bene, cioè è una vita spesa per il bene del prossimo, o sul piatto della bilancia della tua vita, la parte che è spesa per il bene del prossimo è maggiore della parte invece spesa per te e la tua famiglia, quindi egoistica, ecco, bisogna analizzare e poi se invece, e quindi darti una risposta in questo senso, se invece intendiamo la strada giusta come l'espressione di una missione che ci siamo riconosciuti, noi ad esempio abbiamo, ci siamo riconosciuti in una missione, ok? Abbiamo una missione, siamo in missione per conto di Dio, come dicevano i Blues Brothers, siamo in missione su questa terra, sicuramente ragazzi, io faccio battute, sdrammatizzo, ma questa è la realtà, siamo in missione, per vedere, per capire se la missione sta andando bene, sempre i frutti devi vedere, a me è stato insegnato questo, i frutti, vedere i frutti, vedere i fatti oggettivi, ok? Quindi ti faccio un esempio, io posso fare 100.000 video nel nostro canale YouTube, posso scrivere 80 miliardi di libri, posso fare tutto quello che vuoi, ma se dopo 10 anni ancora ho 5 visualizzazioni in tutto, i libri sono rimasti nel magazzino perché nessuno li ha presi, ecco, forse, insomma, devo chiedermi se quella è la strada giusta, devo capire se sono di fronte ad un ostacolo che devo superare, oppure proprio se devo cambiare strada, perché c'è anche quella possibilità, ma se noi abbiamo aperto il canale YouTube un anno fa e ci abbiamo quasi 10.000 iscritti, cioè è buono, no? Sempre con gratitudine a chi ci ha presentati al mondo, perché noi siamo grati appunto a Pier Giorgio Caria, Giorgio Bongiovanni, i nostri maestri, maestro in assoluto Giorgio, quindi con riconoscenza nei loro riguardi, perché senza di loro ovviamente non avremmo raggiunto i risultati che stiamo raggiungendo, siamo felici perché possiamo toccare più anime, no? Più anime possibili per risvegliarle a queste grandi verità e risvegliarci anche noi sempre di più, quindi questa riconoscenza deve essere sempre messa in primissimo piano, ma comunque vuol dire che ci stiamo dando da fare, siamo bravi in quello che facciamo, oddio, chi si loda si sbroda, come si dice, ma bisogna anche prendere atto della situazione, in un anno abbiamo quasi 10.000 iscritti, buono, libri, dobbiamo fare una ristampa perché le richieste sono tante, buono, quindi cioè prendere atto della situazione e in questo modo certamente capiamo se siamo sulla giusta strada oppure no. È chiaro che in tutto questo ci sono delle prove da superare, degli ostacoli da superare, non è che va tutto bene, no? Quindi l'analisi che noi facciamo della nostra vita deve prendere anche, diciamo, deve tenere in considerazione anche quegli ostacoli. Non è che tu hai il primo ostacolo che vivi, allora vuol dire che non è la mia strada, cambio strada, è buonanotte, cioè sarei sempre una che non sa dove andare. No, gli ostacoli ci sono, bisogna capire se è un'indicazione di cambiare strada oppure se è un ostacolo che devi superare. Gli ostacoli ci sono e ci saranno sempre, grazie a Dio, perché gli ostacoli ci servono per crescere, per maturare, no? Per essere più forti.